secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora grazie buono sto mandarino me lo sono proprio gustato buono ottimo me lo sono proprio gustato a spicchi eh panther ti è piaciuto sto mandarino? grazie panther regala prima 5 sub e lo mangio tutto in un boccone vai regala prima 5 sub vai ma che fai? sto mangiando panther sta qua lo rimango qua vai regali 5 sub e lo mangio tutto intero va bene panther un secondo panther grazie mille in più ti do anche 5 baci attenzioni ok guarda non me l'aspettavo panther qua mi è fatto eh sincera qua mi è fatto ok aspettavo la cosa roba che sta all'interno sto mangiando ecco ma mi il